Il Venezia sotto di due golle con l'uomo in meno per oltre 50 minuti, alla fine vince la sfida delle ultime e batte l'Empoli per 3 a 2. Toscani vantaggia al quarto d'ora, Di Napoli messo giù in area da Taibi, è rigore, batte lo stesso Di Napoli che realizza. Risponde Volpi dal limite, poi Recoba va giù in area ma l'arbitro fa proseguire. Angolo per l'Empoli, al 38esimo, Taibi esce a vuoto e Belica respinge con una mano, è rigore, il brasiliano viene espulso, batte ancora Di Napoli che raddoppia. C'è ancora un'occasione per il solito Di Napoli, altra azione dubbio in area toscana per l'arbitro però, è tutto regolare. Ci prova Recoba ma l'uruguaiano si allunga un po' troppo la palla. Cosa ha detto negli spogliatoi, sono entrati trasformati? Mi ero un po' arrabbiato, poi nel secondo tempo credo che abbiamo fatto una grandissima partita anche in 10 e abbiamo vinto immediatamente. Nel secondo tempo azioni a ripetizione, Toscani pericolosi con Carparelli ma il Venezia che va in gol. Marangon per Valtolina, 2-1 e siamo al 9. L'Empoli può chiudere la partita ma prima di Napoli c'entra in pieno il palo e poi un tiro dell'attaccante viene fermato sulla linea. A questo punto inizia lo show di Pippo Maniero, prima è bravo Sereni ma il portiere toscano non può fare nulla sul colpo di testa dell'attaccante veneziano. Trentesimo e il Venezia impatta. Quattro minuti dopo Recoba compisce in pieno il palo e al quarantesimo il gol partita di Maniero. Riveniamo lo stupendo colpo di tacco che chiude la partita sul 3-2. Mauro Sandriani, ma come ha fatto l'Empoli a perdere questa partita? Perché ha voluto stravincerla e purtroppo in questi casi bisogna fare il mea culpa. Abbiamo voluto stravincerla quando eravamo superiori, invece di giocare con intelligenza e tenere raccolta la squadra abbiamo cercato di chiuderla facendo il gioco dei nostri avversari che hanno esercitato per questo motivo sfruttando la nostra squadra lunga un forcing, anche peraltro molto veemente. Grazie a tutti.